Belen Rodriguez, l'amata personalità televisiva, ha condiviso una lieta notizia con i suoi fan. Il malessere che l'aveva tormentata in passato sembra essere svanito. Il suo sorriso radiante è un segno tangibile del suo miglioramento. La bella notizia è che Belen sembra aver trovato la felicità al fianco del suo nuovo fidanzato a Brescia. Insieme, sembrano vivere una vera fiaba. E le immagini della coppia felice non fanno altro che confermare questa realtà. Una cosa che non è sfuggita ai suoi sostenitori è il fatto che Belen stia mettendo su peso. Questo è un chiaro segnale che la vita di coppia le sta facendo bene. Attualmente, Belen vive a Brescia. Ma il futuro è sempre incerto. Chissà che non decida di tornare a Milano per trascorrere del tempo, con i suoi cari. Specialmente i suoi figli. Quello che è certo è che i fan di Belen sono felici di vedere il suo benessere, e la sua gioia. E le augurano tutto il meglio per il futuro. Grazie a tutti.